Abbiamo fatto dei passi molto importanti in questo periodo, abbiamo trovato una situazione difficile nella quale non era stato definito tutto il passaggio che voleva dire, per capire concretamente, rischiare di avere i cantieri fermi nell'autostrada importante come quella Trieste-Venezia. Vorrebbe dire quindi mettere in difficoltà tutta la mobilità, le imprese del nostro territorio. Da questo siamo partiti facendo lo sforzo di trovare prima il testo insieme al Ministero dei Trasporti per quanto riguarda l'accordo interistituzionale. E dopo ovviamente questo passaggio importante al Cipe che voleva dire trovare un accordo sulle specificità di Autovie Venete e del tarifario che dobbiamo mettere in campo rispetto ai 2 miliardi di interventi circa complessivi che sono stati fatti e si faranno sul tratto autostradale. Non arrivare a questo accordo voleva dire non portare avanti le opere, non dare una prospettiva a questa regione, alla mobilità di questa regione. È stato fatto un passo sicuramente importante, non scontato. La nostra concessionaria è diversa da tutte le altre ed è stata riconosciuta dal Cipe. Hanno fatto questa specialità proprio per gli investimenti importanti che stiamo facendo e oltretutto è l'unico pezzo di autostrada con dei lavori in corso, con una struttura commissariale, con un commissario, che sono io, un commissario di governo. E quindi fortunatamente il governo con molta sensibilità ha riconosciuto questa specificità e questo ci permetterà di andare avanti con l'operazione e garantire i tempi rapidi. Non a caso i lavori dell'otto attuale che i cittadini vedono concretamente sulla terza corsia finiranno con più di un anno di anticipo e continueremo ad andare avanti con questa solerza e con questa velocità perché per noi l'obiettivo è dare la terza corsia e farlo velocemente.